M come microbiota. Io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista e questo è l'alfabeto nutrizionale. Bene amiche e amici, rieccoci nel concetto appuntamento settimanale con il mio podcast L'alfabeto nutrizionale, nel quale lettera dopo lettera andrò ad esplorare vari aspetti della nutrizione e della salute in generale. Oggi è il turno della lettera M, M di microbiota. Cos'è il microbiota? Sporeremo un pochino, non troppo approfonditamente magari perché è un argomento estremamente complesso, però cercherò di darvi le basi per comprendere questo microcosmo che ci popola. Cos'è il microbiota? Microbiota fondamentalmente è l'insieme dei microorganismi che popolano il nostro corpo. Ebbene sì, il nostro corpo è popolato da miliardi e miliardi di microorganismi di ogni genere e specie che vivono insieme a noi sin dal momento in cui veniamo concepiti e praticamente sono in ogni parte del nostro corpo. Ci ricoprono all'esterno, all'interno e ce li abbiamo dappertutto. Quindi dobbiamo imparare a conoscerlo questo microbiota, a capirlo e a anche coccolarlo perché il microbiota intestinale, che è quello di cui parlerò oggi, è particolarmente importante per la nostra salute. In realtà un po' tutto il microbiota, quindi tutto l'insieme dei microorganismi che ci popolano, sono importanti per la nostra salute, ma ovviamente io mi occupo di nutrizione e quindi parleremo nello specifico del microbiota intestinale, quindi quell'insieme di microorganismi che popolano il nostro intestino. Dovete sapere intanto che il microbiota, quindi l'insieme di questi microorganismi, è talmente numeroso a livello di cellule che lo costituiscono. Che noi siamo più microorganismi che essere umano perché numericamente questi microorganismi battono le nostre cellule 10 a 1, quindi addirittura abbiamo 10 volte il numero delle nostre cellule di microorganismi che ci popolano. E quindi dobbiamo tenerne conto perché come il nostro corpo interagisce con questi microorganismi e come questi microorganismi interagiscono con il nostro corpo fa una enorme differenza per la nostra salute e nello specifico per quello che andrò a trattare oggi per la salute dell'intestino, il benessere dell'intestino, ma non solo, e tutta una serie di problematiche che possono essere collegate anche con la perdita di peso. Intanto il microbiota da cosa è costituito? È costituito da un insieme di microorganismi di ogni genere e specie. Abbiamo i batteri, ovviamente, di varie tipologie, abbiamo anche funghi e lieviti e tutta una serie di altri organismi che appunto popolano il nostro intestino. E non solo lo popolano, ma hanno un ruolo fondamentale nella salute dell'intestino e del nostro corpo in generale. Quindi svolgono un ruolo molto molto centrale nella gestione della salute veramente a 360 gradi, perché entrano in gioco in una miriade di meccanismi che inizialmente uno potrebbe pensare che non c'entrino nulla, ma in realtà sono collegati anche in cose che apparentemente non dovrebbero essere collegati con l'intestino come l'umore, per esempio, e altre problematiche anche a livello di depressione o altro. Quindi dobbiamo tenere molto molto sana la nostra flora batterica intestinale. Ecco, il microbiota è il nome ufficiale di quella che un tempo chiamavamo flora batterica intestinale. Perché non si usa più flora batterica intestinale? Perché non abbiamo solo batteri nell'intestino, ma come dicevo prima abbiamo tante specie microbiche di ogni tipologia. Il microbiota svolge innumerevoli ruoli, come dicevo prima, nel nostro corpo, interagisce con quello che mangiamo e viene alterato da quello che mangiamo. Quindi in base alla nostra alimentazione noi andremo a modulare le specie nel nostro intestino e andremo a favorire o meno delle specie positive rispetto a quelle negative e viceversa. Diciamo che possiamo distinguere in due grossi filoni, sto super semplificando ovviamente, i microrganismi, i microrganismi fermentativi e microrganismi putrefattivi. Già il nome stesso putrefattivi la dice lunga sulla loro salubrità. Quindi in base alla nostra alimentazione noi andiamo a preferire lo sviluppo di una tipologia di specie microbiche rispetto all'altra. Per esempio, gente che ha uno stile di vita, gente che segue per esempio un'alimentazione povera di fibre, povera di alimenti vegetali, è ricca di carne e proteine animali e invece andrà a favorire una flora batterica putrefattiva che di fatto ci intossica perché è un tipo di microbiota che essendo appunto putrefattivo produce tossine che di fatto ci intossicano e quindi ecco un altro dei motivi per i quali si dice di non esagerare con la carne ma in generale con le proteine animali e le proteine comunque in generale, proprio perché poi si va a favorire un certo tipo di microbiota che non è per nulla positivo per il nostro intestino, ci infiamma e ci crea un sacco di problemi. Invece, avendo un'alimentazione ricca di fibre e a prevalenza vegetale, andremo a favorire invece quelle specie microbiche che sono invece positive per l'intestino e che ci fanno stare meglio. Il microbiota, come dicevo prima, svolge diversi ruoli. Uno è quello di gestire il cibo che noi ingeriamo, quindi elaborandolo in parte laddove il nostro corpo non riesce, si nutrono per esempio le fibre, noi non digeriamo le fibre ma parte del microbiota, il nutrimento, regalandoci di contro delle molecole che sono degli acidi grassi a catena corta che servono come nutrimento per le cellule dell'intestino. Quindi noi mangiamo le fibre, queste fibre in parte andranno a nutrire questi microbi e questi microbi, una volta elaborate le fibre usate come nutrimento, rilasceranno questi acidi grassi a catena corta che verranno captati dalle cellule dell'intestino che se ne nutriranno. Quindi vediamo come c'è un rapporto simbiotico tra noi e queste specie microbiche che se mantenute nel giusto equilibrio ci fanno solo che bene. Ci aiutano a digerire diverse sostanze che magari noi non riusciamo a digerire e altresì hanno una funzione importante anche nel sistema immunitario. Se noi abbiamo un microbiota sano già esso stesso riesce a contenere eventuali patogeni, quindi microorganismi patogeni che possano cercare di colonizzare il nostro intestino. Ovviamente se noi abbiamo nutrito bene i nostri microbi nell'intestino così saranno belli forti e numerosi e riusciranno a scacciare via eventuali invasori. Ovviamente sto super semplificando come dicevo prima, l'argomento è molto complesso, io cerco di essere il più semplice possibile cercando di darvi più informazioni possibili senza andare troppo sul tecnico che risulterebbe poco comprensibile ai più. Una curiosità sul nostro microbiota è che tra tutte le specie che contiene al suo interno ce n'è una che probabilmente molti non conoscono, cioè meglio conoscono questa specie ma non sanno che risiede nel nostro intestino ed è il famoso e o famigerato Saccharomyces cerevisie. Non è altro che, rullo di tamburi, il lievito di birra. Noi abbiamo nel nostro intestino il lievito di birra vivo, ok? Che sta lì e fa le sue cosine, ci aiuta a modo suo. Quindi, per ribadire ulteriormente che l'intolleranza al lievito non esiste e che noi ce l'abbiamo nel nostro intestino il lievito di birra e se fossimo intolleranti al lievito, chi suppone di avercela dovrebbe stare male H24 senza soluzione di continuità, anche non mangiando nulla che contiene lievito. Quindi togliamo il pane, togliamo la pizza, togliamo tutto ciò che c'è il lievito e a quel punto dovresti stare male lo stesso perché tanto ce l'hai nell'intestino, ok? Questo però in realtà non succede, quindi un'ulteriore prova se mai ce ne fosse bisogno, che è l'intolleranza al lievito è solo fuffa e non esiste. Ah ma io ho fatto il test in cui lo dice, quei test che dicono che siamo intolleranti al lievito sono fuffa, ma io ho fatto il test del DNA e fuffa anche quello. Quindi non lasciatevi abbindolare dai test delle intolleranze, quelle di 200 alimenti, quello che è. Ma l'unico test per l'intolleranza vero e proprio è il test per l'intolleranza lattosio, con test del fiato. Poi se vogliamo mettere nelle intolleranze quelle al glutine, quindi la celiachia, che ormai non si considera più un'intolleranza ma è una malattia autoimmune, però mettiamo nel calderone le intolleranze, c'è un test che si fa ovviamente un test, è un esame del sangue, si vada ad analizzare gli anticorpi specifici per la celiachia per il glutine e poi si fa anche una biopsia dei bili intestinali. Quindi diciamo che quei test su 200 alimenti, eccetera, sono test fuffa. Giusto una piccola parentesi perché non stancherò mai di ripetere questa cosa. Il microbiota è collegato anche alla giusta gestione del peso. Come? Non si sa. O meglio, si sta studiando, o meglio, gli studi sul microbiota vanno avanti ormai da tanti tanti anni. Stiamo scoprendo sempre cose nuove, però è un campo talmente complesso perché appunto questi microorganismi sono talmente tanti e interagiscono in modi talmente diversi tra di loro perché ognuno di noi ha un microbiota diverso dall'altro. Il microbiota è un po' come un'impronda digitale e non ci sono tipo due microbioti uguali. Questo ovviamente complica ulteriormente la situazione e quindi riuscire a studiare per bene microbiota è complicatissimo. Però stiamo facendo sempre più passi avanti nella comprensione di questo enorme microcosmo di organismi viventi che vivono insieme a noi e ci accompagnano per tutta la nostra vita e anche dopo la nostra vita perché quando passiamo a miglior vita e inizia la decomposizione del nostro corpo è il nostro microbiota che a quel punto inizia a digerirci perché noi non siamo più in vita, non possiamo più nutrirlo e quindi ciaone e inizia a digerire noi stessi. Chiusa parentesi macabra, macabra. Quindi come dicevo è piuttosto complesso riuscire a capire bene come funziona questo microbiota però sappiamo che è strettamente collegato anche alla gestione del peso perché è stato osservato che persone naturalmente magre che sono quindi quelle persone che tendono a restare magre nonostante magari il classico amico che abbiamo tutti che mangia come un disperato e non ingrassa mai ok o viceversa abbiamo quell'amico o quell'amica che basta che respira e mette su tre chili ok. In parte questo è dovuto proprio al microbiota e si è osservato infatti che le persone che tendono a essere naturalmente magre hanno una certa tipologia di microbiota e poi c'è quelle che tendono a essere naturalmente più grasse e ingrassare con molta più facilità hanno un'altra tipologia di microbiota. Infatti si stanno studiando dei trapianti di microbiota che non è prendere un integratore di probiotici, uno va in farmacia a prendere integratore, proprio dei trapianti da persona a persona. Adesso vi spiego anche come avvengono questi trapianti, non è niente di particolarmente simpatico perché sono dei trapianti fecali, fondamentalmente si prendono le feci della persona magra e si piantano nella persona non magra, ovviamente si fanno delle capsule, insomma ci sono vari metodi, non è così disgustoso come sempre, però a pensarci un po' sì e questo trapianto di microbiota si è visto che porta dei benefici alle persone che sono tendenzialmente grasse e quindi gli aiutano a perdere peso. Ovviamente siamo ancora agli albori di questo tipo di ricerche e servirà ancora molto tempo prima di arrivare veramente a una terapia concreta di questo tipo. Come dicevo prima il microbiota lavora insieme a noi, noi lo nutriamo e lui ci restituisce dei nutrienti, gli acidi grassi e catena corta per nutrire l'intestino ma anche delle vitamine come ad esempio la vitamina K che appunto viene prodotta da alcuni batteri nel nostro intestino. Quindi come tenere sano il nostro microbiota, come coccolarlo per bene perché come dicevo prima se lo merita il nostro microbiota di essere coccolato perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo avere un microbiota il più sano possibile, avendo uno stile di vita il più sano possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sempre seguire quelle regole e quelle buone abitudini di vita sana che oltre a far star bene noi, fanno star bene anche il nostro microbiota, quindi avere un'alimentazione sana e bilanciata, basata sul modello mediterraneo a prevalenza di alimenti vegetali, mangiare una certa quantità di fibre ogni giorno, quindi almeno 25-30 grammi di fibre al giorno, muoversi, essere attivi, quindi fare attività fisica, camminare, non essere sedentari, ridurre drasticamente il consumo di alcolici, ecco tutte quelle regole che valgono in qualsiasi aspetto della nostra salute anche nel caso specifico del microbiota. Altra cosa, non prendere antibiotici a caso perché molte persone purtroppo abusano di antibiotico senza motivo, magari se lo ritrovano a casa perché gli aveva prescritto il medico in passato, se ritrovano la scatola dell'antibiotico a casa, hanno un problema X senza consultare nessuno, pigliano l'antibiotico come se fosse acqua fresca. Non si fa, perché ovviamente l'antibiotico va a interagire non solo con eventuali specie patogene, ma anche con delle specie che non sono patogene e quindi creandoci di fatto magari un danno anziché andare a risolvere il problema. L'antibiotico si prende ovviamente se è necessario prenderlo e quindi quando è il medico a decidere quale antibiotico prendere, quando prenderlo, se prenderlo e per quanto prenderlo. Non facciamo mai di testa nostra, mi raccomando, perché rischiamo solo di fare dei danni. L'altra cosa da non fare è prendere probiotici a casaccio. Molte persone anche lì abusano di probiotici. Cosa sono i probiotici? I probiotici sono, detta molto banalmente, gli integratori di fermenti lattici. Ora, detta così non è esattamente corretto, perché è vero che i fermenti lattici fanno parte dei probiotici, ma non tutti i probiotici sono fermenti lattici, perché nei probiotici fanno parte diverse tipologie di microorganismi. Quindi spesso e volentieri io sento spesso anche pazienti che vengono e mi raccontano, prendo integratori? Sì, prendo ogni giorno i probiotici. No, non si fa. Anche i probiotici si prendono solo se necessario e quelli necessari nello specifico, perché non tutti i probiotici sono uguali, perché il nostro intestino è enorme, è molto lungo e in zone diverse dell'intestino ci sono microorganismi specifici, ok? Quindi se io ho un problema al colon, non andrò a prendere dei lattobacilli che nel colon tecnicamente non ci sono, andrò a prendere dei bifidobatteri che invece colonizzano il colon e quindi se ho un po' di colon irritabile magari andrò a preferire un integratore di probiotici a base di bifidobatteri e non di lattobacilli. Oppure dipende poi dal problema che uno ha. Quindi i probiotici vanno saputi scegliere, vanno saputi prendere e non si prendono a casaccio così, perché mi sveglio la mattina e prendo il probiotico e tanto fa bene. No, perché rischiamo di alterare l'equilibrio del nostro microbiota andando a introdurre dall'esterno delle specie microbiche senza motivo, ok? Se c'è un motivo per prenderle si prendono, anche lì dietro controllo e consiglio medico, non così a casaccio, e quelli che servono. Perché appunto ci sono probiotici diversi per trattare problematiche diverse, quindi mi raccomando attenzione. E ripeto, non prendeteli a casaccio perché non vi porta nulla di buono. E soprattutto se avete dei problemi intestinali, andare a ricorrere al probiotico come prima mossa non è mai la mossa corretta, perché bisogna prima capire il perché c'ho i problemi nell'intestino, ok? Perché c'ho quelli problemi lì. Quindi vanno capiti i problemi, capita la causa dei problemi e poi eventualmente uno magari può prendere anche un probiotico specifico per alleviare i sintomi o accelerare il processo di guarigione, però bisogna prima capirne le cause e agire a monte, ok? Quindi anche lì va sempre valutato il contesto e non bisogna mai fare di testa propria, sempre rivolgersi a qualcuno di competente che possa indirizzarci nella direzione corretta per cercare di capire il problema e risolverlo. Se ovviamente è risolvibile, ci sono dei casi, magari il problema è cronico, quindi in quel caso non si risolve, però anche lì va sempre capito il contesto. Quindi mi raccomando, non fate mai di testa vostra. Quindi per il momento io mi fermerei qui, vi invito come sempre a lasciare un like se questo video, questo podcast vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e a vedere i video precedenti, i podcast precedenti, perché siamo alla lettera M, quindi vuol dire che ce n'è un bel po' già pubblicati dal primo che tratta l'acqua a tutta una serie di altre puntate nel quali tratto già diversi argomenti come l'indice glicemico, i grassi e via discorrendo, che appunto potete recuperare su tutti i canali nei quali questo podcast è pubblicato, cioè YouTube e tutti i canali podcast possibili e immaginabili. Quindi da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a recuperare le matte precedenti se non le avete ancora ascoltate e noi ci vediamo al prossimo episodio con la lettera N. E mi raccomando, sempre carichi e motivati! Grazie! Grazie!